Musica Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6 Volata finale in consiglio regionale per l'approvazione del bilancio e dopo i fatti di ieri il consigliere del Partito Democratico Camillo D'Alessandro denuncia in aula di aver ricevuto minacce e offese a seguito della pubblicazione di un video da parte dei grillini Filippo Tronca Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio Stavolta prima dell'inizio della seduta del consiglio regionale il presidente Giovanni Di Pancrazio ha piazzato due vigilantes a presidio dei banchi del governo in attesa della seduta che dovrà approvare la legge di stabilità e il bilancio di previsione per evitare un'eventuale nuova occupazione dei banchi della giunta come quella scenata ieri dai consiglieri pentastellati che ha provocato la stizzita reazione del governatore che ha strattonato la consigliera Sara Marcozzi per sfilargli la sedia un pericolo oggi insussistente visto che l'M5S diserterà i lavori il centrodestra ieri invece depositato un plico da 1700 emendamenti ma come accaduto ieri per il documento di programmazione economica e finanziaria approvato in serata scatterà la legge tagliola che li ridurrà 5 per ciascun consigliere le divergenze restano ma il clima è quello della ricerca di un accordo sono numeri di responsabilità perché per la prima volta noi scriviamo il disavanzo come purtroppo va iscritto con la nuova normativa e ci carichiamo di ammortizzarlo regalando un futuro agli abruzzesi non di debiti ma di risanamento e allo stesso tempo abbiamo garantito prevalentemente le spese sui trasporti e sul sociale e per la prima volta con la giunta perché lo scorso anno fu apportato col consiglio anche delle risorse su agricoltura e cultura noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono quelli che vogliamo che la maggioranza prendano in esame e magari in alcuni casi anche accettare su questo c'è la nostra massima disponibilità comunque un po' di numeri li vogliamo vedere ad inizio seduta Di Pangrazio ha ribadito anche la censura adottata dall'ufficio di presidenza nei confronti del gruppo dei 5 Stelle Camillo D'Alessandro del PD ha reso invece noto di aver ricevuto centinaia di offese sul suo profilo Facebook e anche tramite sms a seguito di un video postato dai grillini in cui il consigliere Dem cerca di non farsi riprendere da un grillino che lo firma con un telefonino oltre alla violenza delle offese per i quali chiaramente ci saranno giudici che decideranno se quelle sono offese punibili o meno si è andato oltre perché si è voluto intaccare la sfera personale ma soprattutto intimidire l'attività di un eletto dal popolo con delle minacce che sono arrivate anche per messaggio quindi private di gente che mi vuole fare sapere che da oggi mi devo stare attento il consigliere M5S Riccardo Mercante che segue i lavori da spettatore lo invita a denunciare pure e rigetta al mittente le accuse se il consigliere ha ricevuto le minacce esistono le vie legali può procedere per diffamazione con chi l'ha minacciato però la notizia è che noi ieri abbiamo messo in atto una protesta pacifica per dimostrare contro il bilancio assolutamente al buio quindi privo di qualsiasi... non c'è stato mostrato e c'è stata un'aggressione indiretta all'interno del consiglio da parte del presidente verso la nostra collega E sempre sul consiglio regionale nella legge di stabilità è prevista la nascita dell'organismo che si occuperà di finanziamenti europei un carrozzone è stato così definito per il centrodestra un carrozzone inutile, uno strumento essenziale invece per il centrosinistra vediamo Organismo strumentale per gli interventi europei un oggetto ancora misterioso la cui istituzione è prevista dalla legge di stabilità Un organismo che dovrà occuparsi di gestire una partita da 2,5 miliardi di euro relative ai finanziamenti europei dal FASPOR, FERS, passando per il PSR e anche delle centinaia di milioni di euro previsti per gli interventi del masterplan per il Sud Un ennesimo baraccone di cui sono ignoti i costi e dimensioni secondo l'opposizione di centrodestra che serve più che altro al presidente D'Alfonso per accentrare nelle sue mani e trasferire a Pescara la delega importante dei fondi europei Quello che mancava all'Abruzzo per spendere bene subito le risorse e non restituire nemmeno un centesimo a Bruxelles ribatte la maggioranza Qui si sta ritornando ai vecchi carrozzoni di una volta un organismo di questo genere che è mascherato da buone intenzioni in realtà ha due obiettivi il primo obiettivo è quello di accentrare in capo ormai direi a una riforma al presidente, ai suoi uomini tutte le funzioni in sostanza e poi c'è anche un altro rischio molto forte che io ritengo in questo scenario vedo una sorta di volontà di accentrare verso l'Abruzzo sviluppo e quindi togliere una funzione all'Aquila per attribuirla a Pescara Organismo strumentale per gli interventi europei e voi difendete la scelta Non è che la difendiamo, la sopportiamo in maniera decisa e forte conci di un dato di fatto ormai i fondi derivanti dallo Stato centrale sono sempre di meno e saranno sempre di meno nei prossimi anni per cui l'unico modo è attrezzarsi adeguatamente per ricercare e captare quei fondi europei che purtroppo finora troppo spesso ci sono passati sopra la testa Si annuncia un nuovo anno caldo in regione Abruzzo per lo stato di agitazione annunciato da parte dei sindacati della funzione pubblica si contesta la riduzione di 500 euro del salario accessorio Francesca Romanatesti Noi oggi come CGL, CISL, UIL e UGL della funzione pubblica proclameremo lo stato di agitazione del personale perché nell'incontro del 18 ultimo scorso il presidente della regione si era impegnato con noi a trovare le strade per poter implementare il fondo del trattamento accessorio dei dipendenti regionali ma ciò non è avvenuto tanto è vero che ieri nel confronto che c'è stato con la delegazione trattante di parte pubblica non c'erano ancora le condizioni per poter firmare l'accordo anche su una possibilità di trovare una mediazione non si è trovata la quadra quindi riteniamo che senza questo impegno non possiamo accettare che ci sia un ulteriore taglio al salario accessorio che è già avvenuto l'anno scorso e quest'anno si concretizzerebbe ancora in circa 500 euro lordi Il 2015 invece per l'economia abruzzese si chiude con un miglioramento rispetto all'anno precedente resta critica la situazione per le piccole e micro imprese bene l'export e continua la riflessione degli occupati mancano ancora però le politiche dedicate alla ripresa dei consumi il 2015 è andato certamente meglio rispetto al 2014 che è chiuso in negativo col PIL al 2,7 mentre le previsioni per il 2015 sono un più 0,3% quasi nulla però ha invertito la tendenza tuttavia la situazione resta difficile perché il vero tema è l'occupazione che non cresce abbiamo un fenomeno in Abruzzo si sta divaricando l'economia tra le grandi e medie aziende che riescono a reggere perché sono in grado di far fronte all'export che cresce del 3,8% mentre tutte le piccole e piccolissime imprese anche l'artigianato di cui il tessuto produttivo abruzzese è ampio ha una vasta presenza continua a arretrare, a perdere occupati perché è legato più alla domanda interna del nostro paese che fatica a riprendersi la qualità dell'occupazione cambia perché il Geobact è servito a regolarizzare più che aumentare l'occupazione le posizioni precarie e quindi i dati che abbiamo dimostrano come anche qui da noi il Geobact è servito a stabilizzare di più e quindi a dare più certezza, più reddito ai lavoratori che sono una buona cosa ma non sufficiente a rilanciare l'economia Quali sono le previsioni e soprattutto le richieste le proposte per l'anno che viene? Il 2016 si presenta come un anno di possibile speranza di una ripresa più forte e duratura la nostra regione cosa può fare? Deve continuare sulla strada delle riforme e portare in porto quelle che già avviate quelle dei trasporti, dei consorti industriali sono riforme importanti è certo però che bisogna evitare di pensare solo al masterplan perché il masterplan copre solo alcuni settori soprattutto quelli infrastrutturali materiali e immateriali serve una politica per l'industria per le piccole imprese per il turismo e questo per l'agricoltura per le aree interne e queste sono le risorse che rimangono a disposizione Il via libera del CICAS Abruzzo al pagamento della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori delle piccole aziende lo comunica l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo che questa mattina ha presieduto a Pescara la seduta dell'organismo regionale che gestisce le crisi aziendali e di settore Il via libera è arrivato per quelle domande presentate entro il 29 dicembre 2015 con istruttoria positiva e ci spostiamo a Pescara ci si avvia ad una schiarita sulla vicenda dei lavoratori interinali di Attiva raggiunto un accordo fra lavoratori e amministrazione comunale per un percorso comune da seguire la prossima riunione ci sarà l'8 gennaio Paolo Renzetti Sindaco Alessandrini da pochi minuti è terminata la riunione tra i lavoratori interinali di Attiva e l'amministrazione comunale si è intrapreso un percorso condiviso da portare avanti c'è insomma una schiarita su questa vertenza Abbiamo concluso il tavolo di lavoro con un comunicato congiunto che mostra appunto che si vuole fare un percorso insieme il primo passaggio di questo percorso è una riunione che dovremo tenere a breve per verificare numeri e procedimenti in ordine alla possibilità ventilata dai lavoratori a proposito di procedere ad una conciliazione del contenzioso in atto verificando nella sostenibilità diciamo così giuridica poi c'è anche il tema naturalmente del futuro di Attiva il futuro a breve prevede la necessità comunque di coprire dei posti che non sono stati assegnati nel concorso perché l'esigenza di pulizia della città permane poi c'è il futuro di Attiva perché verso una pubblica amministrazione nuova verso la Costituzione dell'Ager che è un'autorità gestoria dei rifiuti di ambito regionale ecco che Attiva potrebbe avere un ruolo più ampio quindi si cerca di guardare anche al di là dello stretto orizzonte quotidiano C'è anche una notizia che riguarda il lavoratore che aveva fatto ricorso in tribunale Il ricorrente viene assunto naturalmente poi ci sarà un prosieguo dell'azione cioè ci sarà un grado ulteriore di giudizio e poi bisognerà vedere come va a finire l'appello 200 giocattoli sequestrati un quintale di alimenti sottratti alla vendita ed avviati alla immediata distruzione sospensione dell'attività di un laboratorio di ristorante etnico specializzato nella preparazione del crudo sanzioni per un totale di 10.000 euro questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS su tutto il territorio regionale in occasione delle festività natalizie per garantire la sicurezza dei prodotti e la salute del consumatore nello specifico nel corso di due ispezioni magazzini dell'Aquila e del Frentano sono stati sequestrati circa 200 giocattoli perché privi delle informazioni minime di sicurezza giochi destinati ad essere venduti per l'epifania e se maneggiati dai bambini potenzialmente pericolosi per quanto riguarda la sicurezza alimentare dopo il maxi sequestro operato qualche giorno fa di oltre 10 tonnellate di prodotti ittici non tracciati il più ingente degli ultimi tempi in Abruzzo i militari del NAS hanno controllato esercizi e ristoranti etnici in particolare nell'Alto Terramano è stato rinvenuto un quintale di cibo completamente privo delle informazioni sulla tracciabilità si tratta di vegetali freschi conserve, prodotti ittici, surgelati e carne che sono stati sottratti alla vendita ed avviati all'immediata distruzione i carabinieri del NAS hanno anche elevato sanzioni pari a 5.000 euro connesse alle scarse condizioni igieniche infine è stata sospesa l'attività di un laboratorio di un ristorante etnico specializzato nella preparazione del crudo della zona di Chieti il provvedimento si è reso necessario in quanto il pesce veniva preparato seguendo procedure inidone l'ispezione è scattata dietro segnalazione di alcuni clienti anche in questo caso sono state contestate sanzioni pari a circa 5.000 euro ed ora parliamo di inquinamento l'Aquila supera i valori di IPM10 dall'Arta però giungono rassicurazioni ascoltiamo l'Aquila come le grandi metropoli italiane per inquinamento e qualità dell'aria è un poco invidiabile primato quello del capoluogo abruzzese certificato dai dati dell'Arta relativi alle rilevazioni effettuate il 22 dicembre scorso secondo quanto rilevato dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente in quella giornata i limiti di IPM10 sono stati leggermente inferiori al limite consentito per legge ovvero 45 microgrammi per metro cubo ma nei giorni precedenti il 18 dicembre per la precisione gli indicatori di IPM10 avevano superato la soglia massima raggiungendo il valore di 55 24 microgrammi per metro cubo per teramo e 28 per chieti quindi valori nella media sempre nella giornata del 22 dicembre così come a Pescara dove le centraline hanno registrato valori oscillanti tra 28 e 32 e dove solo quella situata in via Sacco ha fatto registrare un picco di IPM10 pari a 37 nella città triatica peraltro l'amministrazione ha predisposto la circolazione a targa alterne alla ripresa dell'attività scolastica il prossimo 7 gennaio un dato decisamente a sorpresa quello a Quilano con l'amministrazione che ancora non ha preso misure adeguate per rispondere agli alti livelli di inquinamento che anche secondo attorevoli studi consultabili sulla rete su siti specializzati risentirebbe sensibilmente dei lavori di edilizia e presenza di inerti ed in una città in cui come nel resto d'Italia non si registrano perturbazioni da settimane la presenza di cantieri legati alla ricostruzione potrebbe aver contribuito in maniera determinante all'impennata dei valori di IPM10 dall'arta sono giunte comunque rassicurazioni e si parla di situazione nella norma con valori di IPM10 che nel capoluogo sono stati superati solo 8 volte in un anno mentre a Pescara 35 dati che comunque devono far mantenere alta la tensione su un problema acuito dai riscaldamenti domestici e dall'inversione termica che crea una cappa nell'atmosfera e non consente la dispersione degli agenti inquinanti sit-in di protesta questa mattina a Pescara davanti alla sede della Banca d'Italia ad organizzarlo gli esponenti di Fratelli d'Italia che oltre a chiedere il risarcimento dei correntisti truffati chiede regole più ferre per chi vende prodotti a rischio ai risparmiatori sentiamo davanti alla sede di Banca d'Italia per manifestare contro chi non ha tutelato su quei risparmiatori che oggi si trovano ad aver perso i risparmi di una vita si parliamo di lavoratori che hanno lavorato per una vita che alla fine dei conti hanno visto perdere tutto ciò che era stato risparmiato anche per i propri figli truffati dalle banche invece di venire tutelati dalle banche sono stati letteralmente depredati siamo qui davanti alla Banca d'Italia perché la Banca d'Italia non ha controllato le banche l'operatore delle banche e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti noi diciamo apertamente che quando i cittadini vanno in banca devono essere garantiti almeno come ho scritto io nel nostro cartello almeno sino a 100.000 euro ora quando lei va in banca le persone gli impiegati non lo dicono questo discorso qua e sono molto ambigui allora noi diciamo voi dovete fare sì il vostro lavoro dovete vendere denaro come sempre però dovete garantire la gente dire la verità dei fatti e non prendere in giro la gente tutto qua e quindi noi siamo qui oggi per protestare contro questo discorso parliamo di sanità uno dei nodi nel complesso da affrontare quello delle liste d'attesa in provincia di Teramo i dati dicono che se la sinergia tra pubblico e privato funziona è possibile ridurre considerovolmente l'attesa per le prestazioni diagnostiche Andrea Costantini tempi lunghi a volte lunghissimi per l'erogazione di prestazioni sanitarie con la salute del cittadino che rischia di essere compromessa da liste di attesa improponibili in Abruzzo però c'è un caso quello della Asle di Teramo che si è mostrato in controtendenza in concomitanza con la scelta provvisoria di alcuni mesi fa di far erogare le suddette prestazioni anche a strutture private i risultati sono stati eccellenti nell'arco dei due mesi di prova in cui il servizio sanitario è stato per così dire ci si è appoggiati a dei privati a delle strutture private esterne addirittura queste liste di attesa sono se non si sono alcune per alcune prestazioni dimezzate per altre invece proprio si è giunti a zero ricordiamo che il limite massimo è di 60 giorni e quindi questo senz'altro potrebbe essere un'ottima opportunità per le ASL di prestare comunque il servizio visto che comunque il servizio sanitario è pagato dagli utenti e nello stesso tempo è la stessa regione che quindi non vede per così dire scappare gli utenti in altre regioni risultati che l'azienda Terramana potrebbe confermare perseverando con questa mossa strategica che andrebbe incontro alla salute dei cittadini con prestazioni erogate in tempi brevi conseguente forte contenimento della mobilità passiva ed anche un sostanzioso sollievo per il bilancio di quelle ASL che appunto scegliessero questa via se una prestazione costa 135 euro per esempio per un esame mammario la regione eroga 135 euro all'ASL questo servizio se affidato a strutture private esterne costa addirittura di meno perché costa all'incirca 100 euro il che significa che la regione comunque eroga alla ASL di appartenenza 135 euro però costando 100 euro la prestazione alla ASL rimangono i 35 euro ci sarà sicuramente un bilancio positivo soldi che chiaramente potranno essere rimessi all'interno della stessa struttura per migliorare il servizio sanitario bilancio 2015 positivo secondo il primo cittadino di Giulianova Francesco Mastromauro il sindaco ha rimarcato come la sua amministrazione sia riuscita a diminuire di 300 mila euro la tassazione locale come si chiude il 2015 per l'amministrazione comunale di Giulianova il bilancio 2015 è un bilancio molto positivo molto positivo al di là delle polemiche strumentali che qualcuno vuole sempre avanzare senza analizzare in maniera oggettiva un anno solare che vede gli enti di prossimità in grande difficoltà a Giulianova noi abbiamo un bilancio 2015 approvato rispettando il patto di stabilità per l'ennesima volta un bilancio che non ha introdotto nuove tasse locali ma che anzi ha diminuito la tassazione locale più di 300 mila euro di diminuzione in questo anno solare abbiamo pagato un debito che proveniva da 35 anni addietro di 4 milioni e 200 mila euro a Giulianova quest'anno è stato ha iniziato a lavorare il gestore unico dei rifiuti c'è come hanno potuto osservare i cittadini sempre una migliore percezione della pulizia abbiamo superato il 70% di raccolta differenziata nonostante la crisi abbiamo fatto opere pubbliche che la città aspettava da tempo abbiamo inaugurato il tratto del lungomare sul lungomare centrale con il bike to cost è stata un'opera importante tante cose le abbiamo messe in itinere iniziato i lavori del campo di calcio castrum anche questo che attendeva ad almeno 40 anni con un impegno di oltre un milione di euro porterò all'approvazione la realizzazione di un palazzetto dello sport interamente a carico dei privati a Giulia Nova abbiamo iniziato e continuato una stagione della democrazia partecipata siamo nelle condizioni di poter auspicare per il 2016 interventi importanti perché con la vendita della Giulia Servizi che è stata decisa dal legislatore nazionale noi contiamo di reperire risorse ingenti diversi milioni di euro che andremo a investire sulla città per completarla ad esempio con il centro del Lido che ha bisogno di un grande restyling cambiamo decisamente argomento dopo 16 anni di presidenza Massimo Parenti storico fondatore dell'Agbe di Pescara l'associazione impegnata nel sostegno delle famiglie dei piccoli pazienti affetti da leucemia lascia l'incarico e passa il testimone al suo vice Achille Di Paolo Emilio dal primo gennaio guiderà l'associazione mentre Parenti ricoprerà il ruolo di presidente onorario dedicandosi al reperimento di fondi un passaggio di consegne voluto dovuto che magari se fosse avvenuto 5-6 anni fa sarebbe stato ancora meglio però per gli impegni dell'associazione occorre che una persona sappia che ci si deve dedicare e quindi finalmente abbiamo trovato un genitore disponibile ad essere presenti in associazione sia la mattina che il pomeriggio per cui noi andremo avanti con i nostri impegni io non è che esco dall'Agbe rimango nell'ambito dell'Agbe preoccupandomi di quella che è la raccolta fondi che fino ad oggi è quello che ci permette diciamo di andare avanti di portare quel sorriso ai bambini ricoverati con le famiglie ospitate in casa alloggio o con il trasporto casa ospedale casa e con tanti altri servizi che offriamo sempre gratuitamente ai nostri amici meno fortunati io in pratica sono stato in questi 16 anni sempre a fianco di Massimo l'associazione l'abbiamo fondata insieme che è chiaro che lui è stato il trascinatore quello che ci ha dato la forza è lui che è stato sempre in prima linea però è sempre stato supportato da me e dagli altri consiglieri quindi non cambierà niente se non che ci sarà un impegno da parte mia un forte impegno perché noi abbiamo sempre creduto in quello che facciamo e continueremo a crederci sicuramente abbiamo altri progetti nel cassetto e cercheremo di portarli avanti sono abbastanza tranquillo perché so che quello che facciamo è che cosa andiamo incontro so quello che mi aspetta so che cosa faccio e poi strappare un sorriso ai bambini è la mia mission e quindi sicuramente sicuramente la mia famiglia sarà felice di questo ed ora passiamo alla pagina sportiva con un briciolo di buona sorte il Pescara avrebbe potuto centrare la promozione in serie A ma il 2015 resta un anno molto positivo per i biancoazzurri che ora guardano al mercato per migliorare ancora una squadra che ha chiuso il girone d'andata al quarto posto Andrea Costantini è stato un 2015 molto positivo per il Pescara un anno nel quale è mancata solo la ciliegina sulla torta di una promozione sfumata per un soffio lo scorso giugno quando la fortuna ha deciso di sorridere al Bologna e voltare le spalle ai biancoazzurri nonostante le partenze eccellenti nel corso dell'estate il nuovo corso instaurato da Massimo Oddo ha continuato a mettere risultati più che lusinghieri anche per via di una rosa allestita con un'età media bassa ma ricca di qualità e talento così il Pescara chiude l'anno solare avendo fatto più punti di tutti 70 e più gol di tutti 63 e al giro di Boa è la quarta forza del campionato con 37 punti all'attivo meglio hanno fatto solo Cagliari Crotone e Novara alle spalle squadre all'inizio quotatissime come Bari Cesena e la delusione Spezia e la sensazione è quella che se Campagnaro avesse giocato di più e non fosse stato limitato dagli infortuni il bottino poteva essere ancora più pingue in fondo i numeri sono eloquenti con l'argentino a guidare la difesa i biancazzuri hanno sempre vinto e incassato un solo gol a Lanciano anche il presidente Sebastiani può gongolare per le esplosioni di Caprari e del capocannoniere La Padula giocatori che sul mercato valgono già tanto sul campo viaggiano a suon di gol a proposito di mercato il primo nome in entrata in attesa dell'apertura ufficiale della finestra invernale fissata per il 4 gennaio è quello del centrocampista marocchino Ismail Ekmaidat che la Roma acquisterà dal Brescia per poi girarlo in prestito al Pescara giocatore di grande qualità e che potrà inserirsi nel gruppo anche grazie all'ex compagno di squadra Ben Ali che ritroverà in riva all'Adriatico il tecnico Oddo poi vorrebbe alla sua corte Antonio Piccolo sul giocatore della Virtus Lanciano c'è una concorrenza spietata di Novara e soprattutto Spezia che sul piatto mettono un ingaggio allettante per il giocatore il presidente Sebastiani proverà a far valere i buoni uffici con il DS Frentano Leone e a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche come il difensore Pesoli e l'attaccante forte ma non sarà facile interessano poi il fantasista Verde che potrebbe arrivare anche egli in prestito dalla Roma e l'esperto difensore Domizzi dall'Udinese i vertici biancazzurri tengono poi d'occhio gli sviluppi della vicenda Mandragora il Genoa proprietario del cartellino e la Juventus hanno già trovato l'intesa per il passaggio in bianconero del gioiello di Scampia il quale comunque con grande probabilità resterà in prestito a Pescara fino a fine stagione tuttavia non si può escludere a priori che il giocatore indossi sin da subito la casacca bianconera Oddo però conta di averlo ancora con sé un giocatore che nel girone è andata confermato anche in Biagazzurro di essere un vero e proprio predestinato Tra possibile nuove penalizzazioni e partenze eccellenti la Virtus Lanciano chiude con tante preoccupazioni un difficile 2015 nuove ansie per i tifosi frentani dopo la boccata d'ossigeno con Livorno Piccolo Marilungo Pucino e Crecco hanno la valigia pronta rischia di andare via anche il capitano Mammarella il servizio un paio di giorni per godersi la tonificante vittoria sul Livorno poi sui tifosi della Virtus Lanciano sono ripiombate le preoccupazioni che alleggiavano prima dell'ultimo match dell'anno interrogativi ancora più inquietanti alla luce dei rumors piuttosto insistenti che parlano dell'arrivo di una nuova penalizzazione per problemi amministrativo contabili dopo il meno uno subito nelle scorse settimane dal Tribunale federale per la mancata attestazione del pagamento dell'IVA per l'anno 2012 i tre punti gol Livorno hanno riaperto uno spiraglio salvezza ma la squadra va adeguatamente rinforzata invece la proprietà nelle ultime ore per bocca del vicepresidente Guglielmo Maio ha fatto sapere che il mercato sarà fatto in base al bilancio tenendo d'occhio i conti e nessun giocatore è considerato incedibile tutto questo va a corroborare quelle voci che già si erano fatte insistenti nei giorni scorsi la Virtus perderà il suo giocatore di maggiore rendimento l'uomo su cui Daversa si è appoggiato per non compromettere le speranze salvezza già nel girone in andata Antonio Piccolo decisivo con i suoi otto gol l'attaccante è in scadenza di contratto e piuttosto che perderlo senza poter batter ciglio la società potrebbe farlo partire subito monetizzando sa di beffa la situazione di Guido Marilungo il centravanti di proprietà dell'Atalanta dopo un lento e difficile recupero dal grave infortunio finalmente si era sbloccato domenica scorsa con la doppietta al Livorno sul più bello però Marilungo andrà via e col placet dell'Atalanta finirà al Perugia dove ritroverà Bisoli che lo ha allenato a Cesena anche il DS Perugino Goretti è uscito allo scoperto sulla trattativa un colpo al cuore per gli sportivi frentani è sapere che anche il capitano con la C maiuscola Carlo Mamarella potrebbe fare le valigie nel corso della sua ottava stagione in Frentania al difensore dal sinistro Fatato è fortemente interessato Lascoli e i contatti sono ben avviati anche l'Avellino guarda Lanciano per rinforzarsi situazione avanzata per il difensore Raffaele Pucino che andrebbe via dopo metà stagione destinazione irpina anche per Luca Crecco che al contrario di Pucino ha giocato molto poco i due peraltro non sono di proprietà della Virtus ma di Chievo e Lazio rispettivamente voci di mercato anche intorno a Fabrizio Paghera che come piccolo era in procento di andare via già in estate il centrocampista di proprietà sarebbe un'altra opportunità di fare cassa per il sottalizio frentano ma costituirebbe una perdita molto grave sotto il profilo tecnico è tutto per oggi grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti